buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle siamo arrivati all'episodio 7 un episodio veramente fatto di sangue 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 e ancora sangue perché io ragazzi mai nella vita mi sarei aspettato di vedere messa in scena una situazione di seppuku cioè una situazione di suicidio messa in scena tra l'altro su una piattaforma come quella di disney e con una scena così plateale veramente così plateale clamoroso episodio veramente marchiato nel sangue ma prima di cominciare ragazzi lo sapete bene ve lo dico tutte le volte ma ve lo dirò anche questa volta se vi piacciono i miei contenuti e vi va di diffonderli condividerli mettete un pollicione subito perché così l'algoritmo mi dà una mano a condividerli e se vi piacciono i miei contenuti i miei contenuti e condivideteli tra gli amici linkate fate quello che volete datemi una mano a far crescere questo canale in più se vi piacciono i miei prodotti se vi piace quello che faccio iscrivetevi attivate la campanellina ci sono anche i super grazie potete fare quello che volete aiutatemi ad arrivare ai 3000 oggi saranno 3000 poi 45 dai che cresciamo dai 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 detto questo cominciamo a parlare di questo episodio 7 episodio 7 che credo abbia un un focus importantissimo il focus importantissimo non è la casa dei piaceri perché lui era la scorsa settimana tra l'altro è situazione proprio di anticipazione di quella che sarà passata la burrasca e finita l'era sengoku e l'era zuchimo moyama sarà la creazione dei quartieri di piaceri a osaka chioto e fugiwara a edo ma non è questo però è una bella anticipazione inserita in in questo episodio non è neanche la scena dell'attacco finale nel quartiere dei piaceri nella nella casa del te se credo che non sia molto importante credo che il focus principale di questo episodio sia su due figure la figura di toranaga e la figura di saeki il fratello allora andiamo a vedere a livello storico quello che realmente è stata la vita di tokugawa e quello che è stato realmente il fratello di tokugawa partiamo visto che questo è incentrato su tokugawa io credo sia giustissimo andare a fare una sorta di cronistoria della vita di tokugawa allora intanto tokugawa iaiasu non nasce con il nome di tokugawa iaiasu ma nasce con il nome di matsudaira takechiyo figlio di matsudaira irotada signori di mikawa quella che è la prefettura di aichi odierna contate che la l'area di mikawa era una piccolissima area stretta a tenaglia tra quelli che erano due possedimenti importantissimi di due feudatari che di lì in poi avranno una grandissima importanza sto parlando da una parte del clan oda che si trovavano a ovest nella zona di nagoya e del clan imagawa che si trovava a est nella zona di suruga e di totomi bene fondamentalmente il clan matsudaira si ritrovava chiuso a tenaglia tra questi due clan tra l'altro il clan oda che vedrà poi successivamente nascere il primo unificatore del giappone quindi stiamo parlando mica di pizze e fighi ad ogni modo il clan matsudaira è un clan che trovandosi a metà strada ha dei problemi anche di fazione perché diciamo che a un certo punto si spacca in due una parte nobutaka fratello di nobukide decide di parteggiare per gli oda nobukide che è poi il padre e il nonno se non mi sbaglio di takecio decide di non parteggiare per gli oda quindi ci sarà un bel casino da lì cosa succede a niente gli oda essendo che i matsudaira sono in mezzo gli oda attaccano attaccano i matsudaira e questi per non soccombere vanno a chiedere proprio agli magawa una mano cioè vanno a chiedere ai vicini di casa di entrare nel loro territorio e dargli una mano a combattere gli oda bene qui nessun problema gli magawa gli dicono va bene noi vi veniamo a dare una mano però per sicurezza noi prendiamo in ostaggio il piccolo takecio cioè il figlio di erotada e me lo tengo in casa per sicurezza si sa mai che facciate gli asini tant'è vero che capita proprio che durante questi scontri e durante questi scontri succede che nobukide quindi il uno dei più il più importante del clan oda il daimio più importante capisce che è una figura importante in questa alleanza e decide di andare proprio a sunpu a rapire takecio e portarlo a nagoya e una volta portato lì cosa fanno a niente mandano una comunicazione al padre dicendo ascolta se vuoi se vuoi rivedere tuo figlio arrenditi altrimenti noi lo secchiamo qua tanti saluti arrivederci grazie e il padre dice no io non ho intenzione di di arrendermi per salvare la vita mio figlio e niente erotada o meglio scusate e nobukide decide di non uccidere il figlio del suo avversario e qua ci sarà quello che è il primo incontro tra due figure molto importanti da una parte takecio il futuro ieyasu dall'altra parte oda nobunaga il futuro primo shogun della nazione il primo unificatore perché non è vero che era il primo shogun il primo unificatore del giappone passano gli anni passa il tempo e avviene quella che è una morte per entrambi i clan perché i rotada quindi il leader dei mazudaira muore ucciso da una congiura di palazzo nobukide il leader degli oda muore in un'epidemia quella che poteva essere una situazione totalmente negativa che avrebbe portato alla totale debolezza del clan mazudaira porta in realtà in seno un'opportunità di rivalsa perché perché gli magawa capiscono che i loro nemici sono deboli e quindi assaltano gli oda nobukiro viene intrappolato nobukiro è il figlio uno dei figli ma nobunaga che già comunque è in un'età importante inizia a trattare con gli magawa e fa sì che lasciano il territorio e quindi ridanno takechiyo agli magawa in cambio di del fratello di nobunaga nobukiro che era stato messo in trappola dall'armata nemica takechiyo in questo momento ha nove anni quindi il futuro yeyasu ha nove anni passano gli anni ne ha 14 siamo nel 1556 arriva quello che sarà il primo cambio di nome di takechiyo perché da qua in poi ne cambierà parecchi da qua non sarà più matsudaira tokuchiyo ma sarà matsudaira motonobu un nome che durerà poco perché l'anno successivo motonobu cambia di nuovo nome si sposa con tsukiyama figlia e parente del clan magawa e cambia il nome e diventa matsudaira motoyasu già motoyasu inizia a richiamare quello che sarà il suo nome importante l'anno successivo motoyasu ha 16 anni ha il primo figlio edor e nobuiasu e lui torna a mikawa torna ad essere il signore di mikawa qui però è un signore un pelo azzoppato perché perché comunque il suo territorio è sempre un territorio e cinto atenaglia tra due armate importanti ha comunque un contratto matrimoniale con la famiglia magawa quindi è un vassallo degli magawa e qui avrà l'ordine di attaccare il clan oda e lui lo farà riportando a casa anche varie vittorie peccato che in quell'anno nel 1559 i magaio i magawa yoshimoto leader daimyo degli magawa decide di attaccare frontalmente oda la famiglia oda il problema qual è è che ordina motoyasu di andare a conquistare la fortezza di marone quindi di togliere totalmente l'armata dei matsudaira da quello che è l'equazione delle forze in campo morale della favola gli magawa perdono drammaticamente e yoshimoto viene ucciso da un attacco a sorpresa delle truppe di nobunaga senza il loro leader gli magawa crollano motoyasu marcia verso kazaki e a quel punto si allea con oda nobunaga quindi a quel punto il il quasi piccolo perché ormai non è neanche più piccolo e motoyasu si è liberato dal gioco degli magawa mi fermo un attimo qua prima di andare avanti le battaglie l'età giovanile che noi abbiamo anche visto in questo episodio con la scena del seppuku e di del piccolo toranaga che decapita il suo il suo nemico in segno di rispetto è un richiamo letterario forte perché in realtà questa cosa non è mai avvenuta ma è un richiamo letterario a un evento narrato nell'eike monogatari e i che monogatari che è un racconto di guerra del conflitto game page del conflitto tra e taira e minamoto avvenuto alla fine del periodo heian praticamente questa in questa guerra si racconta proprio di una scena di seppuku dove è colui che deve con il principe che deve compiere proprio questo è la parte finale la decapitazione del dell'avversario fondamentalmente sbaglia la decapitazione perché con la lama della katana bisogna colpire quel breve anello di cartilagine che c'è tra la prima e la seconda vertebra per riuscire a decapitare con una katana che non è uno spadone a due mani non è uno zwei hander tedesco e stiamo parlando di una katana una spada comunque è affilata sì ma non è la katana di goemoni shikawa ok in questa narrazione si parla di questo principe con poca esperienza che tenterà il primo colpo la katana rimarrà piantata tra la prima e la seconda vertebra e accadranno da quel momento in poi per la decapitazione scenari assolutamente macabri e sanguinolenti truci che più o meno quello che viene raccontato in ridere alla fine dell'episodio quando viene raccontato che il piccolo toranaga non c'è riuscito al primo colpo ma ci sono voluti 7 8 9 colpi prima di decapitare il proprio avversario ecco più o meno la narrazione è la stessa e però diciamo che è raccontata in una maniera un filino meno macabra un filino meno creepy gore ok torniamo al nostro motoyasu perché motoyasu a quel punto crollati gli imagawa decide di allearsi con oda nobunaga e come lo fa lo fa nel 1563 facendo sì che il figlio nobuiasu si sposi con la figlia di oda nobunaga quindi andando a unire le due famiglie e qua abbiamo per l'ennesima volta un ulteriore cambio di nome del leader dei matsudaira che non sarà più matsudaira motoyasu ma diventerà matsudaira yeyasu quindi il nome da lì non cambierà più e qua yeyasu praticamente passerà gli anni successivi all'unione con gli oda per pacificare la zona riformare il clan sfruttando quelle che erano le dinamiche anche dei clan limitrofi e soprattutto si troverà a dover combattere con una setta religiosa armata e che minacciava proprio la sua leadership e la il governo della prefettura passano gli anni arriva il 1567 l'anno in cui yeyasu cambia nome diventa tokugawa yeyasu quindi ottiene quello che sarà il suo nome definitivo perché tokugawa yeyasu tokugawa yeyasu perché il clan tokugawa che era esistente era un clan discendente dalla famiglia sewa genji che era una discendenza diretta dei genji genji monogatari cioè della famiglia minamoto del clan minamoto ossia una famiglia che secoli addietro e comunque il clan scendeva e c'era ancora era un clan che discendeva direttamente dalla famiglia imperiale e quindi essere un discendente dei minamoto voleva dire essere una figura di grande importanza essere una figura di spicco e avvalorare il proprio ruolo all'interno della corte e davanti all'imperatore si ipotizza che questa fosse una bufala ma l'imperatore avvalò questo cambio e quindi ufficialmente i tokugawa e tokugawa yeyasu iniziarono la propria storia e ottennero ancora più importanza da qui l'armata tokugawa divenne un'armata fortissima ma soprattutto un'armata di supporto agli yoda espandendosi nelle regioni di totomi di kai alleandosi col clan takeda e in quegli anni yeyasu sfrutta proprio quella che è l'armata degli ashigaru per poter sbaragliare i propri nemici gli ashigaru che cosa sono? gli ashigaru sono un'armata di fanti armati di tanegashima cioè di archibugi quindi un'armata di archibugeri in questi anni yeyasu e i tokugawa iniziano a allargarsi però avvenne nel 1571 un piccolissimo problema cioè il clan takeda rompe l'alleanza con i tokugawa e fa sì che la morte di che la moglie di yeyasu e il figlio nobuyasu venissero accusati di cospirazione per aver tentato di ammazzare nobunaga e quindi la moglie di yeyasu viene decapitata il figlio viene costretto da yeyasu a commettere seppuku da qua inizierà quello che è una fase alterna perché intanto i tokugawa celeberò a morte poi con i takeda e rimanendo uniti al clan oda razziarono e distrussero il clan takeda da conquistarono la loro provincia e ottennero un altro territorio nello stesso anno però avvenne quello che vi avevo raccontato nell'episodio 4 cioè gli eventi dell'incidente dell'Onnoji cioè Akechi Mitsuhide che fa sì di dar fuoco al tempio dove nobunaga si è rinchiuso Nobunaga muore e i due principali daimio vassalli di Nobunaga tentano di attaccare Mitsuhide e di farsi belli uccidendo l'assassino yeyasu sta mobilitando le proprie forze per poter andare a caccia di Mitsuhide ma Toyotomi Deyoshi ci riesce prima lo assalta Yamazaki lo sconfigge e lo uccide da qua Hideyoshi inizierà a salire al potere e inizierà ad ottenere sempre maggiore importanza l'anno successivo nel 1583 Tokugawa inizia ad espandersi in quella che è un'altra terra di clan storici giapponesi parlo di Yōjō che erano coloro che erano caduti in disgrazia proprio all'inizio del periodo a Shikaga quindi alcuni secoli prima e qui però col fatto che i Tokugawa sono andati per i fatti loro ignorano totalmente quello che è lo scontro tra Toyotomi Deyoshi e Shibata Katsuie cioè quello che è lo scontro fondamentale per quello che sarà il ruolo di leader del Giappone la figura del secondo unificatore del Giappone Yeyasu per il fatto che è andato per campi per i fatti propri ottiene quella che è l'immagine del leader saggio e cauto in realtà era andato a fare espansione da altre parti però tutta questa situazione con i Tokugawa che spalleggiano gli Oda i Toyotomi che assaltano gli Oda però il problema è che morto a Nobunaga gli Oda non sono così tanto potenti come lo erano prima e la famiglia Toyotomi ha la meglio su gli Oda per poi andare ad affrontare Tokugawa proporgli una tregua ma con questa tregua accadrà esattamente la stessa cosa che era accaduta al piccolo Yeyasu ma stavolta con il figlio in quanto il figlio Ogimaru verrà adottato da Toyotomi Deyoshi quindi noi abbiamo che il secondo genito di Yeyasu viene portato via quindi il primo è morto il secondo è portato via rimane il terzo che è Idetada che è quello poi che vedremo in questa storia nella storia di Shogun sotto un altro nome però è Idetada e P.S. Idetada diventerà Shogun del Giappone dopo Yeyasu non schiatta in quella situazione cartunesca che succede alla fine di questo episodio ad ogni modo i Tokugawa da quel punto hanno una certa in un certo qual modo una sorta di ambivalenza perché dopo la tregua rimarranno alleati dei Toyotomi andando ad abbattere gli Ojo che era un'altra fazione e come vi dicevo prima un clan importante e storico giapponese e iniziano ad andare a occupare le loro terre e diciamo che con uno scambio di territori i Toyotomi richiedono ai Tokugawa quelli che erano i loro terreni originari e i Tokugawa in cambio terranno il Kanto quindi la zona dell'odierna Tokyo quindi dell'antica Edo ed è proprio qui che i Tokugawa si installano occupano il castello di Edo iniziano ad allearsi con i Daimyo del Giappone nord orientale creando quella che è l'armata dell'est che poi più avanti avrà lo scontro tra l'armata dell'est e l'armata dell'ovest in quello che sarà Sekigahara in questa maniera con tutte le alleanze con i Daimyo della zona nord orientale Tokugawa Ieyasu diventa il secondo Daimyo più importante del Giappone siamo nel 1591 da lì da lì ci saranno anni di scorribande battaglie il clan Toyotomi uscirà dal Giappone e andrà verso la Corea e verso la Cina ci saranno pacificazioni e si arriva al 1598 con la morte di Toyotomi dei Yoshi e la creazione di quello che sarà il consiglio il consiglio dei cinque reggenti che abbiamo visto all'inizio della serie quindi da qua non vi vado ad aggiungere niente perché bene o male come viene raccontato nella storia di Shogun è vero simile cambiano solo i nomi dei Daimyo quindi la figura di Tokugawa Ieyasu è una figura che è stata molto dinamica molto eclettica ma soprattutto una figura che ha saputo sfruttare l'andamento del vento sfruttando alleanze familiari e non per riuscire a diventare il secondo signore più importante del Giappone dopo ovviamente Toyotomi dei Yoshi abbiamo visto in questo episodio la figura di Saeki Nobutatsu cioè quello che è il fratello di Ieyasu Nobutatsu in persona quello che nella storia giapponese è Matsudaira Iemoto figlio illegittimo di Matsudaira Irotada Daimyo del castello di Okazaki e praticamente nato nel 1548 morto nel 1603 praticamente una figura di grande riferimento e venne cattura o meglio anche lui essendo figlio illegittimo venne allontanato dal dal palazzo assieme alla madre ma venne donato comunque a loro un un wakizashi rituale proprio per far capire che loro facevano parte della famiglia Matsudaira inoltre inoltre e abbiamo anche il fatto che Iemoto era una figura molto strana molto particolare perché si dice che Iemoto avesse un'andatura claudicante un'andatura problematica perché sembra che avesse perso le dita di entrambi i piedi in giovane età ora però arriva un problema e il problema è che sembra che cioè di Iemoto oltre a questo si sa pochissimo andando a cercare un po' negli annali si trovano alcune informazioni ma niente di più e gli studiosi credono che la figura di Iemoto sia un personaggio fittizio creato proprio da Tokugawa stesso da Ieyasu stesso perché le informazioni biografiche di questo Iemoto vanno a collidere o meglio vanno ad incastrarsi perfettamente con le figure di altri membri della famiglia Matsudaira e realmente vissuti la data di nascita e la data di morte sono esattamente gli stessi di uno dei generali di Ieyasu un certo Matsudaira Yasumoto casualmente il fatto che avesse una camminata incerta e e che avesse le dita dei piedi mozzate richiama un'altra figura Matsudaira che però era Yasutoshi Matsudaira in più il fatto del dono della Wakizashi cioè della katana rituale grande così che viene utilizzata come segno di riconoscimento per farsi e per mostrarlo a Ieyasu e far capire al fratellastro che loro sono parenti è una situazione che è già presente nella biografia di un'altra figura storica dei Matsudaira che è Matsudaira Tadamasa si parla in alcuni annari di queste figure e di Matsudaira Iemoto peccato che tanti storici fanno convergere cioè fanno convergere le loro idee arrivando a dire tutti quanti che la figura di Iemoto in realtà non sia mai esistita è una figura totalmente fittizia creata da Ieyasu stesso per non si sa quale motivo per probabilmente modificare la propria vita modificare la propria storia i propri annali non ci è dato sapere però Iemoto è una figura volta nel fumo dell'invenzione di Ieyasu stesso dopo avervi lanciato dentro al campo di battaglia della vita di Ieyasu vi ho lanciato nelle ombre della figura fumosa di Iemoto e quindi nel momento in cui Iemoto è una figura che non è mai realmente esistita tutto quello che è il tradimento di Iemoto non può essere mai avvenuto per il semplice motivo che Iemoto non è mai esistito e quindi tutta quella parte del tradimento e del voler riportare Toranaga a Osaka per dargli la morte in realtà è una situazione mai esistita detto questo ragazzi io voglio sapere da voi cosa ne pensate di questa serie se vi sta piacendo se questo episodio anche per voi è stato una bomba e come sempre noi ci vediamo nei prossimi giorni ah mi raccomando stasera su Twitch io e Teo andiamo a riguardarci anzi andiamo a guardarci andiamo a fare quella che è una nostra tradizione cioè ci guardiamo in blind la nuova stagione di LOL almeno quello che c'è e noi ci vediamo stasera su Twitch per il resto ragazzi mi raccomando commentate 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 ciao belli eh sì eh sì questo questa serie televisiva veramente tanta roba ed è bello come in ogni episodio ci sia modo di andare a sviscerare qualcosa di interessante a livello storico sulle varie figure che sono sul campo di battaglia tanta roba non mi sarei mai aspettato una serie così e voi?